Ciao, se vivi in Liguria o in regioni limitrofe potresti andare a visitare l'albergo dei poveri a Genova. Nel quartiere Castelletto di Genova, in piazza Emanuele Brignole, sorge l'albergo dei poveri. Emanuele Brignole, scelto dalla Repubblica di Genova per sovrintendere alla costruzione di un nuovo rifugio, un ricovero dove ospitare i poveri della città, insieme con Oberto della Torre, furono i responsabili della sua costruzione iniziale, avvenuta nel 1652. Nei secoli successivi l'edificio fu ampliato più volte e solo nel 1835 assunse l'aspetto attuale, rendendo l'opera praticamente conclusa dopo quasi due secoli. Grazie allo sviluppo di un nuovo tipo di assistenza agli anziani nell'ultimo decennio del XX secolo, l'edificio è stato destinato ad un uso più moderno e da qualche anno l'ala orientale della struttura ospita le aule e gli uffici di varie facoltà dell'Università di Genova. L'albergo è situato tra le pendici del Monte Galletto e la collina di Carbonara e alcune fonti attribuiscono all'architetto Stefano Scaniglia di San Pier d'Arena il progetto originario dell'edificio, che in effetti risale al 1652. Insieme a Giovanni Battista Ghiso e ad altri tecnici, l'edificio è stato modificato per adattare il progetto alle caratteristiche morfologiche del cantiere. Le strade d'accesso sarebbero state infatti costruite attraverso l'ampio giardino del palazzo solamente nel XIX secolo. Il complesso ha forma quadrilatera e presenta un lungo prospetto, costituito da due corpi laterali avanzati e da un corpo centrale sormontato da un imponente frontone. La chiesa è circondata da quattro ampi cortili interni e si trova al centro del secondo piano. L'albergo dei poveri ospita numerose sculture e dipinti di valore inestimabile. All'interno della chiesa dell'Immacolata si trovano diversi altari in marmo e un dipinto dell'artista Domenico Piola che raffigura l'ascensione. Sull'altare maggiore si trova addirittura una statua dello scultore francese Pierre Puget di Marsiglia. Un'ultima chicca, il fondatore dell'albergo dei poveri Emanuele Brignole è sepolto sotto una lapide non segnata vicino all'ingresso che conduce a quella che un tempo era la chiesa degli uomini a sinistra dell'altare maggiore. Se hai dubbi o domande scrivimi nei commenti, ti risponderò il primo possibile. Se vuoi sostenere questo progetto mi raccomando seguimi su YouTube e su Instagram e ricorda studia ma soprattutto ragiona con la tua testa.